questa è la lettura 9611 del maestro spirituale coreano chon gong l'angelo custode maestro mi piacerebbe comunicare con il mio angelo custode per poter aumentare la forza come potrei fare i nostri protettori non ci abbandonano mai essi stanno sempre con noi noi siamo discepoli del padre e gli angeli custodi ci stanno sempre vicino al fine di proteggerci in molti casi a svolgere quel compito sono i nostri stessi antenati in altri è la natura che provvede a mandarceli e comunque noi siamo uniti a loro poiché in virtù della nostra anima siamo noi stessi degli dei da quel che ho compreso tu vorresti connetterti a loro per ottenere dei vantaggi ma la possibilità di vivere bene non dipende dal supporto degli angeli custodi ma dall'ammontare dell'energia che hai portato con te dal momento della nascita è necessario conoscere quanta tu ne abbia ancora a disposizione poiché nel caso fosse esaurita essi non potrebbero fare molto per te pur essendo sempre accanto a voi i vostri custodi avrebbero le mani legate vi potrebbero aiutare solo se aveste ancora un credito di energia a disposizione ma allora in caso contrario voi che cosa potreste fare incomincereste correcarvi in chiesa oppure al tempio o anche sulla montagna andreste in quei luoghi per pregare ma poiché qualcosa in cui vecchi ingranaggi sembrerebbe essersi inceppato finireste col supplicare il padre con dei toni di grande scoraggiamento nella voce ecco allora che magari dopo qualche supplica di quel genere riuscireste a ottenere dei risultati e così fareste ritorno a casa sollevati salvo ritrovarvi qualche tempo dopo a chiedere nuovamente con lo stesso tono e la stessa insistenza e così tutto diverrebbe un'abitudine in realtà ciò che avete ricevuto è solo un anticipo sul vostro credito futuro né più né meno dell'anticipo sugli stipendi che l'impiegato chiede al proprio datore di lavoro in altre parole il padre vi concede un po di forza anzitempo affinché la possiate utilizzare per la vostra preparazione se foste ancora in possesso di credito sareste liberi di fare ciò che volete ma se così non fosse il vostro comportamento dovrebbe essere impostato unicamente in direzione di un modo di procedere strettamente coerente dovreste cioè utilizzare l'anticipo ricevuto per ricucire tutte le lacune nella vostra preparazione che significa imparare a vivere nel modo corretto con le persone che vi stanno davanti persone che il padre vi ha fatto incontrare se con l'impegno riusciste a produrre dei risultati in seguito otterreste dei grandi benefici senza conoscere questo meccanismo sarebbe ovvio da parte di chiunque supporre che le preghiere abbiano prodotto gli effetti sperati ma una volta che quell'anticipo si sia esaurito ricomincerebbero le difficoltà a cui seguirebbero delle altre preghiere e così via di seguito potreste ricevere questo genere di aiuto extra dal padre due o tre volte al massimo dopodiché tutto avrebbe fine arrivati a quel punto anche continuando a pregare e a supplicare all'infinito nulla più pioverebbe dal cielo a partire dai primi del 2013 inizio dell'epoca dello u chon shi de infatti le cose non stanno più marciando come in passato e questo ormai lo sapete bene da quei giorni infatti è l'energia del cielo che ha iniziato a operare e ha soppiantato l'energia della terra il padre vi potrà concedere del credito solo dopo che avrete portato beneficio a una persona ricevendone in cambio onori e rispetto e se il beneficio lo estenderete a più persone ne riceverete una ricompensa maggiore il segreto sta solo nel portare del beneficio agli altri chiedere per sé adesso non troverebbe più alcuna soddisfazione se vi impegnaste per gli altri invece ogni cosa ricevereste dal cielo tutto in sintesi questo è il messaggio dello u chon shi de sapete chi sono io ora ve lo posso svelare sono il discepolo più vicino al padre è la natura che ha voluto che mi impegnassi in questo compito e così sono qui di fronte a voi come ultimo asceta sulla terra non so né dove né come abbia trascorso la mia più tenera infanzia ma a quattro anni mi sono trovato rinchiuso dentro un orfanotrofio non ho potuto crescere con l'aiuto dei genitori ho abbandonato la scuola elementare al secondo anno non si può certo dire che sia stata una persona acculturata ma il mio vero studio è avvenuto in mezzo alla società quando incontravo delle difficoltà mi ci tuffavo in mezzo e ci lavoravo ho abbracciato qualsiasi cosa o situazione che mi sia capitata è così che studiai e crebbi poco dopo i 30 anni però sali sulla montagna con l'idea di togliermi la vita poiché non avevo più desiderio di vivere con nessuno ma nel momento in cui mi resi conto del perché ero salito fin lassù e del perché volessi togliermi la vita mi inginocchiai e incominciai a raccogliere rifiuti e per 17 anni non mi allontanai più da quel luogo né scambiai una parola con alcuno al buio e in mezzo la neve dormi sulla terra ghiacciata è così che potei apprendere ogni cosa dalla bocca del padre la natura mi fece da guida e da insegnante mentre mi ci trovavo completamente immerso con indosso lo stesso vestito con cui ero salito il primo giorno non mi vogli mai concedere del cibo decente mai neppure una radice scavai per sopravvivere ma raccolsi solo ciò che trovavo abbandonato ai margini della strada ripulendo quei sentieri raccolsi tutto il cibo scartato e lo selezionai lasciando la parte migliore sopra una pietra bene in vista a disposizione di chiunque accontentandomi solo di ciò che rimaneva avendo compreso quanto avessi vissuto in modo infame fino a quel momento sentivo di non meritarmi neanche il meglio di quei poveri avanzi la consapevolezza di quanto fosse stata grande la mia arroganza mi aveva già tolto ogni parola dalla bocca mi ero sempre reputato il migliore di tutti fu per questa ragione che finì lassù ma solo così rifacendo potei comprendere io io che vi sto davanti ultimo asceta sopra questa terra fu in questo modo che potei studiare abbracciai ogni difficoltà anche le più tremende e perfino impossibili da superare e così dal padre appresi la disciplina e per la mia purezza fui accolto tra le sue braccia e ricevetti i suoi insegnamenti io non mi stavo rendendo conto di questo cioè di stare tra le braccia del padre ma alla fine del mio studio e solo in quel momento lo compresi appieno tutta la mia fatica e l'impegno per crescere era finalizzato per giungere là proprio in quel punto dove mi stava aspettando uno studio da compiere lo stesso padre in lacrime per le mie tante difficoltà da superare mi addestrò durante quei 17 anni trascorsi sulla montagna mi capitò di morire almeno 70 volte ma è così che fui tirato su e solo così potei essere un discepolo del padre io sono ben consapevole di quanta fatica voi stiate facendo ma è perché voi stessi siete suoi discepoli e tutti vanno educati con fatica e durezza cercate di non odiare mai nessuno poiché è proprio all'interno di quelle situazioni che c'era chiuso tutto il vostro studio insieme alla stessa benedizione del padre un vero discepolo abbraccia con gioia le difficoltà evitate di cercare in giro la forza da utilizzare a vostro vantaggio ma rendete beneficio alle persone che il padre vi ha posto davanti così da poter ricevere la sua benedizione è solo questo esse sono le persone di cui avete bisogno per la crescita pensate davvero di poter aumentare la vostra forza trattandoli male chi mai può avervelo insegnato Grazie mille per l'uomo